Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. In questo video parleremo appunto di uno studio molto interessante che è stato fatto per quanto concerne l'usura dentale in un'antica popolazione egizia e poi andremo anche a capire meglio che cos'è l'usura dentale. Prima di cominciare iscriviti al canale in modo tale da non perderti nessun contenuto che pubblico attivando anche la campanellina delle notifiche. Sul mio canale parlo di argomenti di medicina, odontoiatria e antropologia a scopo informativo. È stata fatta in questo studio una analisi delle malattie dentali di 511 teste di antichi egizi da parte dei ricercatori dell'Università di Torino. La ricerca ha evidenziato che la maggior parte degli ascessi e delle osteolisi periapicali siano da imputare alle conseguenze legate alla estrema usura dentale di questa popolazione e non alle carie dentali che invece erano più rare in virtù di una dieta non molto ricca di zuccheri raffinati. La ricerca ha permesso di capire che in media questa popolazione perdeva un millimetro di sostanza dentale ogni 5 anni. Lo scopo dei ricercatori è stato quello di capire a quale stadio l'usura dentale da fisiologica diventa patologica. Una usura così importante infatti è causata dalla masticazione vigorosa di cibi duri spesso contaminati da particelle di silicio rilasciate durante la macina delle farine. L'ipotesi di una masticazione prolungata in questo caso è suffragata da due aspetti. Numero 1 la contemporanea usura dei punti di contatto interprossimali dei denti e numero 2 il notevole rimodellamento dei condili mandibolari. Lo studio è stato condotto dal team di ricerca del professor Alberto Peluso. L'usura occlusale nell'ambito della paleostomatologia è stata valutata principalmente in termini descrittivi con la classificazione della perdita della sostanza dentale del terzo occlusale, trascurando spesso però l'aspetto clinico che avviene nella porzione cervicale. Il numero elevato di soggetti di un'antica popolazione permette di capire quando c'è appunto un effettivo passaggio da un'usura dentale fisiologica verso un'usura dentale patologica e ne è emerso che per gli egizi la masticazione era essenziale per la loro sopravvivenza. In altre parole se non erano in grado di masticare i cibi duri e se non avevano una bocca sana che li permettesse di fare ciò ovviamente era impossibile per loro nutrirsi e questo rappresentava la prima causa di morte e quindi una condanna a morte. Infatti anche se i denti con l'arrivo della senescenza arrivavano addirittura a consumarsi fino alla radice venivano utilizzati comunque per masticare sino alla loro caduta spontanea. Tra gli egizi invece carie e malattie parodontali erano rare, infatti avevano rispettivamente queste due malattie, questo tipo di popolazione che è stata studiata, un'incidenza del 3 e del 13%. L'usura dentale patologica rappresentava infatti la loro principale malattia odontostomatologica con un'incidenza dell'84%. La maggior parte delle osteolisi periapicali erano causate dall'usura penetrante. L'usura occlusale infatti spesso additata dai dentisti moderni a prescindere come un qualcosa di patologico normalmente nella stragrande maggioranza dei casi non è assolutamente patologica perché è un fenomeno naturale che si produce in grado variabile per lo sfregamento dei denti contro gli antagonisti con o senza l'interposizione di cibo. L'accorciamento progressivo della corona dentale riduce la parte emersa del dente in rapporto alla parte infissa nell'alveolo e con ciò riduce l'effetto nocivo della leva durante i movimenti trasversali. Non c'è in questi casi di usura fisiologica un collasso della dimensione verticale ma al contrario c'è un aumento o un mantenimento al massimo di quella che è la dimensione verticale perché c'è una posizione di osso periapicale e di cemento radicolare quindi l'usura dentale è compensata da questi due fenomeni ma c'è anche una scomparsa progressiva nell'usura dentale di cuspidi solchi e fossette che sono dei soliti i primi punti soprattutto i solchi e le fossette da cui le carie dentali possono partire se però l'usura dentale li va ad azzerare il rischio di carie ovviamente si riduce e in più si è constatata una distribuzione delle forze di occlusione su di un numero più elevato di superfici masticatori questa è un'evoluzione fisiologica dell'organo della masticazione che non provoca alcun tipo di danno paradontale l'usura occlusale è quindi un fenomeno naturale che testimonia una funzione masticatoria vigorosa corretta e che stimola a sua volta la crescita delle arcate dentali e quindi ossa mascellari grandi e minor rischio di denti storti e di malocclusioni dentali che sono invece problematiche che affliggono maggiormente l'uomo moderno purtroppo però dopo i 35 40 anni il fenomeno dell'usura dentale può oltrepassare la condizione fisiologica e può diventare ovviamente patologica questo perché ovviamente se sin da piccoli si masticano cibi duri la nostra specie è progettata dall'evoluzione per vivere fino ai 30 35 anni e quello il tempo evoluzionario della nostra specie è normale che poi una dentizione a quell'età 35 40 anni abbia raggiunto in condizioni naturali il suo fine ciclo diverse sono state le classificazioni storiche dell'usura dentale la progressione dell'usura occlusale è stata infatti descritta dal pioniere della neurochirurgia e dell'antropologia paul pier broca egli propose nel 1875 una scala cinque stadi che è stata ampliata poi da altri autori tra cui scott e smith in tempi più recenti queste scale descrivono in modo dettagliato i primi 4 mm di usura dentale infatti all'inizio c'è un appiattimento delle cuspidi con scomparsa dei solchi e delle fossette dello smalto poi c'è diciamo la comparsa delle isole dentinali perché si consuma lo sbalto e le prime isole dentinali che vengono a formarsi in condizioni fisiologiche sono quelle vestibolari inferiori e palatali superiori pian piano però man mano che l'usura quindi prosegue queste isole dentinali tendono a confluire tra di loro fino a quando non si ha la completa confluenza di queste isole dentinali e alla fine si arriva con la presenza di un'isola di smalto al centro della corona finché le zone di smalto sostanzialmente prevalgono su quelle della dentina l'efficacia masticatoria risulta essere ancora valida anche se i soggetti sono costretti ad aumentare i movimenti di lateralità per sfruttare l'azione di taglio dei bordi di smalto residui dopo il quarto millimetro però lo smalto centrale scompare e si ha la dentina rimanente soltanto ma la dentina rispetto allo smalto si consuma più rapidamente perché possiede un coefficiente di durezza 5 volte minore rispetto a quello dello smalto dentale d'altronde quando l'usura occlusale dimezza la corona il perimetro della superficie di usura tende a coincidere con la linea equatoriale del dente con il progredire dell'usura oltre i 5 millimetri il punto di contatto interprossimale scende al di sotto dell'equatore e sopravvengono diverse situazioni che trasformano quindi l'usura dentale da fisiologica a patologica perché i denti non si accostano più e si creano i diastemi i bordi di smalto interprossimale si fratturano inducendo quindi la formazione di carie cervicale e la dentina di reazione ad un certo punto non riesce a stare al passo con l'usura e si creano proprio delle crepe al di sopra del sottile tetto dentinale con la conseguente necrosi della polpa dentale per via della penetrazione dei batteri con conseguente formazione di osteolisi periapicale se la progressione dell'usura occlusale è però relativamente lenta alla polpa è concesso tranquillamente tutto il tempo per poter retrocedere apponendo nuova dentina di reazione senza che ci sia quindi un danno pulpare sono frequenti le radici infatti prive di corona ma con il canale radicolare perfettamente chiuso da uno strato di dentina neoformata dello spessore di circa un millimetro in alcuni casi però meno favorevoli la penetrazione dei batteri avviene sin dal quinto millimetro di usura la velocità di usura supera in questi casi la neoformazione dentinale oppure i cibi duri creano delle fessure a livello della dentina di riparo e questo per i nostri antenati era d'altronde una condanna a morte l'usura occlusale inverte anche la curva di wilson tranne a livello degli ottavi e ciò produce quello che vedete in questa foto che è la norma e la natura cioè il piano occlusale e liquidale di cui anche parlava pedor panas ovviamente la graduale scomparsa delle cuspidi rappresenta il fondamento del metodo per poter stabilire l'età dentale cioè quando si ritrova un cranio dai denti in base anche al grado di usura dentale è possibile diciamo fare una stima dell'età poi c'è anche però un altro tipo di usura che è quella interprossimale che va di pari passo all'usura delle superfici occlusali ed è causata dal reciproco attrito tra i denti grazie alla mobilità nei rispettivi alveoli dentali e i punti di contatto progressivamente si trasformano in superfici cioè aree di contatto sempre più estese l'estensione di tali aree è direttamente proporzionale al numero di atti masticatori c'è una migrazione mesiale degli elementi dentali così da prevenire la formazione di diastemi dentali e tenere in questi casi le corone sempre ben accostate tra di loro oltre una certa misura però l'accostamento si arresta perché le radici dimostrano di esigere l'interposizione di almeno 2 millimetri di osso alveolare interradicolare per mantenere una buona papilla interdentale e anche un parodonto sano se il video ti è piaciuto lascia un mi piace ed iscriviti al canale condividendolo con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più utile per tutti ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video